salve a tutti madame mseri benvenuti a una nuova puntata qui sul canale spero siete bene sia tutto a posto come ogni martedì e venerdì trovate un nuovo video quello di oggi senza girarci troppo intorno ma ho delle comunicazioni di servizio dicevo senza girarci troppo intorno altro non è che la recensione della palette di anastasia beverly hills in collaborazione con jackie haina mi farò capire se mi piace mi schifa la palette e di faremo delle digressioni in merito mi avvalirò del sito di sephora italia per vedere se la la descrizione da sito corrisponde a quello che il prodotto nella realtà i miei pensieri parole mi gratto ma prima di tutto e prima ancora di iniziare comunicazioni di servizio parte oggi sul mio instagram che vi lascio qui il mio instagram dedicato solo e soltanto a beauty al beauty alcune di voi ancora hanno il mio contatto instagram che quello diciamo che un po abbandonato perché il personale che rimane comunque aperto c'è un altro instagram dove mi occupo solo e soltanto di make up posto abbastanza con regolarità e da oggi parte il calendar ovvero il mio calendario dell'avvento personalizzato con tutti i prodotti che ho comprato io ma dove ci sono marchi con i controcacchi come tart sunday rally uda e giorno per giorno scopriremo un nuovo prodotto quindi il primo posto parte oggi poi altra comunicazione di servizio io ritornerò a lavorare questa settimana ciò comporterà spero non cambi alla programmazione quotidiana di youtube cerco di fare comunque due video a settimana e quindi questa è una comunicazione che tanto non c'entra ma quella di cui sono particolarmente felice fiera e gioiosa è una possibile live che farò con la mia amatissima e carissima 77 pigra no pigra altro che pigra 77 piga la mia cristel la cristellona nazionale ci stiamo organizzando per meciare i miei impegni suoi penso e spero che pubblicizzerà l'avvenimento anche sui suoi canali se avete domande in merito lasciatele qua nella sezione commenti non dimentichiamoci della rubrica domande del car risposte de me se volete lasciate anche qua una domanda in merito e soprattutto e abbiamo finito della comunicazione de massa fatemi sapere se c'è una palette nello specifico di cui volete che io parli e dico solo questo back friday ho comprato non so quante palette tantissime volete nulla riguardo mi metto vergogna però potrei farla se volete non appena arriveranno tutte le palette sì perché parliamo di varie palette varie ed eventuali ma bando alle chiancio e chiancio alle bande non mi ricordo se diceva qualche d'uno se clio qualche cosa allora la palette di anna stasione a beverly hills in collaborazione con gkina ci dice il sito di sephora che non sponsorizza il video non mi preoccupate se lo sponsorizzasse ve lo direi la consecucio tempo room agata si agad usci se sono dislessica ma si fiera di me allora la descrizione che cosa ci dice c'è da dire una cosa ragazze che io piccola digressione poi partiamo quando compro il make up non le leggo mai le descrizioni quindi è un'emozione anche per me dire e vedere che cosa computer e sito ci dicono della palette la paletta ve la faccio vedere nel frattempo viene con lo specchio che piace da questa è la palette che viene anche con il pennello che vi dico tra poco che ve lo mostro tra poco allora mentre parlo vi faccio vedere la selezione colore allora è creato con la collaborazione dell'influencer jackie la jackie haina palette di anastasia beverly hills è una palette di edizione in edizione limitata che contiene gli ombretti imperdibili di jackie pigmenti pressati per i risultati semplicemente meravigliosi poi dice perché te ne innamorerà e l'esclusiva forma ad altra concentrazione di pigmenti è facilmente miscelabile e offre un colore straordinario un intensità modulabile contiene 14 nuovissimi ombretti va bene la pasta io della della concretizza un attimo la cosa la vostra gramma la vasta gamba di tonalità consente di creare qualsiasi look naturale con un ans fredde calde sguardi luminosi look scintillanti e audaci effetti fume volevano dire smoky ma va bene il cofanetto in stile pelle di coccodrillo filmato jackie include un pennello a due estremità è un grande specchio questo il pennello lo specchio se ve lo faccio vedere va cieca adatto a tutti dai principianti del make up agli artisti professionisti nel settore qua già e non ci troviamo e poi formula priva di parabene glutine talati o talco va bene clinicamente prestata testato non testato sugli animali bra 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 non andiamo nella descrizione singola dei colori la velette costa prezzo pieno in italia 50 euro e 90 51 euro col black friday o con come l'ho detto napoletano col black friday o sconti di rito di sefora ma soprattutto è andata tutto esaurito sul sito di sefora mi dicono costava addirittura 30 euro e 50 che un prezzo da di per sé ottimo ora la quantità se a voi interessa il peso netto mi sa per per cialda e di 0.7 grammi allora la palette è come sempre made in us e born in the us e direbbe il grande il grande sprint sting e il pennello ovviamente è finisce il pennello bastando dal pennello pennello perché non so parlare il pennello di per sé aspettate se non mi cade la palette e ciaone di per sé molto simile a tutti i pennelli dell'anastasia beverly hills io non so di quale palette perché ne ho tantissime di anastasia quasi tutte tranne la selezione delle norvina non ne ho nessuno però una selezione abbastanza varia delle palette di anastasia una che il rumena non è di beverly hills questo è uno dei tanti pennelli che trovate nelle palette e anche questo qui è abbastanza aspettate eccoci qua con la parte piatta e la parte che vi sfuma nonostante cinese io ho sempre amato i pennelli che escono dalle palette di anastasia infatti due anni fa due o tre anni fa quando aderco sbobbo fa addirittura la christelle mi ci ha detto uno dei suoi pennelli perché all'epoca ne avevo solo una adesso la collezione pienissima perché lo trovo molto adatto sia ad applicare per l'applicazione dei colori sulla palpebra mobile qui sì e questi sulla palpebra fissa per sfumare quindi il pennello ben che cinese approvato poi bastiamo ero bloccato un attimo sul sito questo è successo perciò tagliato allora per gli amanti del packaging questo è il bellissimo cofanetto della palette sì perché di alcune palette conserva ancora le confezioni questo è il packaging che acquista tutta questi riflessi multicolor ed infine questo è lo schema colore sono 14 tonalità sapete che solo l'am resi a se non mi sbaglio 16 tonalità mentre questo rispecchia lo schema classico di anastasia abbiamo un mix di colori matti matt sono sei sono questi tre matt questo questo e questo dopodiché abbiamo alcuni colori saten che sono shimmer possiamo dire shimmer tra virgolette metallici e questi due in realtà questo parleremo di questo colore nello specifico è più un top per secondo la mia personale esperienza e abbiamo anche il trust issues che quello che nel mio angolo interno ora parliamo della palette di per sé parliamo dai punti di forza i punti di forza di questa palette è che appunto sono pigmenti pressati è una formula che abbastanza facile da stendere tuttavia tuttavia ci sono da dire varie cose quando qua si dice similante adatto a tutti principianti del make up e artisti professionisti del settore professionista non ha problema però per chi si approccia per per la prima volta a una palette di anastasia questa è facile si da sfumare con i colori a dir vero non fanno macchia ma cioè da dire anche una cosa fanno tantissimo fall auto quindi se siete una persona che è alle prime armi fate prima la base o chi parte prima gli occhi e poi fate la base viso perché anche se scrollate il pennello sono colori essendo colori pensati anche quando appoggiate il pennello e io sono una persona non molto aggressiva c'è il fall out ovvero vi cade il pigmento sulla faccia non è niente se voi lo sapete potete rimediare ora 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 ci sono varie osservazioni lo schema colore corrisponde alla descrizione ovvero quando si possono di quando si dice si possono fare i trucchi naturali si si possono utilizzare questi qua ci sono i marroni ci sta una buona cromia che richiame viola il rosa questi qui sono abbastanza utilizzabili per tutti i giorni in collaborazione con i marroni tuttavia una cosa che ha notato anche la griselle questo è una palette comunque pensata a persone che hanno una carnagione scura media a scura perché chi per chi di voi non lo sapesse jackie ha comunque lei se non mi sbaglio di origine è americana però con origini nigeriane quindi è una persona di colore e quindi la palette in linea con le con le esigenze di jackie molto meno con le esigenze di persone che hanno una pelle estremamente chiara perché perché lo si vede anche dai colori di transizione che sono questi qui i colori di transizione diciamo il più chiari sono questi due e quindi non abbiamo il classico marroncino di base vada se se a voi non piacciono questa gamma di colore se voi non usate la transizione tutto quello che vi sto a dire non vi serve a niente quindi se a voi non piacciono i viola se non vi piacciono i marroni rosa lm togliete mano leva mano di rim a napoli inoltre se avete una pelle molto chiara alcune osservazioni come vi dicevo la transizione è molto molto calda per alcuni non è un problema per me sì perché comunque è una palette in linea con le esigenze cromatiche di jackie quindi per il trucco di oggi vi dico anche che cosa utilizzato mutuato il primo colore da un'altra palette che è un marroncino chiarissimo però questo è come mi trucco io se a voi non interessa la transizione andate direttamente con il colore con un colore di transizione come questo come quest'altro o questo qui non c'è problema in merito e nomi non ve li sto qua a dire perché li trovate su internet google immagini è sempre vostro amico altro punto di forza è che gli shimmer sono davvero bellissimi questo è un colore e iniziamo con lo swatch e ve li inizia a sbocciare due cero su braccio mano adesso vedo partiamo da show kinton questo è il colore ed è un colore bellissime quello della parte più esterna dell'occhio questi sono swatch live e il colore come vedete anche facilmente sfumabile quindi come vi dicevo non abbiamo il problema che avremmo avuto con la subculture comunque il colore si sfuma facilmente altro punto di forza a mio dire sono tutti matt adesso ve ne swatch il viola che è molto difficile da fare un buon viola matt e vi swatch anche ma sì questo qui il pink big wig è il viola pinker invece è l'altro un colore un po più come lo definisce il pinker prugna freddo questi sono gli swatch live quindi vedete ve li faccio vedere anche più da vicino sono abbastanza amorgeni non fanno macchia si stendono che un amore quindi questa è una palette che comunque a buona pigmentazione vi faccio vedere alcuni degli filmer vi faccio vedere quello che si gioca tranquillamente in casa il lito e scena del classico marrone che il colore che io userei over and over again è bellissimo ve lo faccio vedere qui anche questo è un colore fantastico il rosso che è pure molto pigmentato non come il mio amore ovvero il rosso più bello che io possegga questo è uno spoiler che non è spoiler è quello della queen of arts di color e drini che il rosso più bello che c'è in commercio però questo si difende abbastanza bene e passiamo agli altri due che io definisco top per ovvero abbiamo il trust issues che ho usato all'interno dell'occhio questo è un top perché significa questo è un colore che non ha una forte pigmentazione di base ma poi utilizzarlo giusto a posto con altri colori oppure nell'angolo interno è per lo più una base glitterata in oro non so quanto riusciate a vedere comunque sempre google immagini il vostro amico e quello che a me sinceramente un po' deluso questo tuo chrome in sponsor ora questo qui è sulla scia del blue brown del camaleonte di neve eccetera eccetera se lo vedete qui il colore sembra pigmentatissimo vi posso dire che quello che ho all'inizio dell'occhio ora vi faccio anche mi avvicino non faccio il close up ma mi avvicino io alla camera e vi dico che cosa ho utilizzato ho utilizzato nella parte nella parte inferiore dell'occhio il viola poi ho creato la mia la mia crisi il mio la mia sfumatura appunto utilizzando sia il viola il prugna è enfatizzato questa parte nella parte interna dopo trust issues abbiamo sponsor e infine abbiamo il viola qui quindi questo è il risultato e ho utilizzato come base ciao faccione ho utilizzato come base la urban decay in promet portion che tra le prime il secondo utilizzo della primer portion e la vibranza dei colori la l'intensità dei colori diciamo l'intensito intensità dei colori vedete è ottimale anche con la base di l'orac quindi ho provato due basi diverse quindi per tirare un po le somme perché alcuni appunto definiscono questa come la migliore palette di anastasia beverly vi posso dire che una palette comunque pigmentata ve la faccio rivedere è una paletti pigmentata che viene col pennello che ha colori molto intensi abbastanza facili da lavorare tuttavia al contro che tante volte mi sono limitata ad utilizzarla perché sono colori che hanno quella marcia in più che può essere molto molto apprezzata dalle persone con toni mediterranei quindi abbastanza intensi e a cui che gravitano intorno a questi colori si realizzano dei trucchi bellissimi bellissimi sembra che la sto a vendere ma no non sono rivenditrice anastasia però la promuovo con un otto e mezzo quindi è un'ottima palette però ha delle osservazioni da fare la consiglierei a un principiante non propriamente la consiglierei nonostante i colori siano di qualità ma sono estremamente pigmentati io sono del partito se una persona ci va con i piedi di piombo può partire con una palette pigmentata così altrimenti se non si è calibrata ancora l'intensità alla mano con alcuni colori e andrei su palette meno pigmentate tuttavia un prodotto che vale sia a prezzo pieno ma ancora di più scontata il suo prezzo e quindi questo è quanto se tornassi indietro la ricomprerei la risposta è sì detto questo spero che la review ti sia stata utile ti sia piaciuta e dimmi se c'è qualche modo se vuoi che cambi la mia review se ti piace così com'è fammi sapere qual è io sto a sputare in continuazione come dice il guaglione mia attendo attendo alla tua saliva ma detto questo un poco di retroscena familiare detto questo fatemi sapere se c'è qualche altra palette di cui vogliate che io parli e questo è tutto se volete supportate condividete fate quello che il vostro cuore con la q desidera andate pure su instagram un bacio forte alla prossima ciao ciao